Io voglio poi ringraziare della telefonata che mi ha fatto il mio contendente nel ballottaggio, Matteo Renzi, lo saluto con un applauso, gli dico grazie per le parole affettuose che ha voluto rivolgermi e voglio riconoscerli, una presenza forte, fresca in queste primarie, voglio riconoscere il contributo grande che ha dato per dare senso a queste primarie, per farle vivere in modo vero, anche questa è stata una cosa importante per le nostre primarie.